Si terrà a giorni in prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo i numerosi episodi di furti che si sono verificati nella frazione di Preturo. Diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane nel paese che hanno preoccupato non poco la popolazione, tanto che il consigliere comunale Livio Vittorini ha interessato subito il sindaco Pierluigi Biondi che a sua volta si è messo in contatto con il questore Enrico De Simone. Il fenomeno è uno dei più fastidiosi e nel doposisma all'Aquila ci sono state tante ondate di furti a periodi che le forze dell'ordine hanno sempre cercato di arginare predisponendo maggiori controlli. Anche in questo caso il questore ha raccolto lo stimolo giunto dal territorio e confrontandosi col prefetto ha deciso di convocare una riunione che tra le altre cose avrà proprio questo tema in oggetto. Il territorio dell'Aquila è molto cambiato nel doposisma anche con la realizzazione dei vari progetti case e dunque il controllo è molto più difficile da parte delle forze dell'ordine. Intanto verranno potenziati i controlli soprattutto nelle periferie. Devo dire che il prefetto e le forze dell'ordine sono sempre molto solleciti nel riscontrare le richieste che arrivano da un territorio che è tradizionalmente tranquillo e forse proprio per questo rende ancora più odioso la violazione di un immobile, della proprietà privata. Anche il comune fa la sua parte, noi diciamo siamo sentinelle del territorio e come nel caso Especie sulla segnalazione avvenuta dal consigliere Livio Vittorini nella zona di Preturo ma poi ci sono stati furti anche in altre zone diciamo cerchiamo di dare risposte tempestive alla richiesta di sicurezza di una città che già lo è di per sé ma che magari con un incremento dei controlli porrà diventarlo ancora di più.